Questa mattina il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha disposto che le bandiere di Palazzo San Giacomo e di Palazzo Matteotti, sedi del Comune e della città metropolitana, fossero issate a mezz'asta in segno di lutto in occasione dei funerali per i morti del recente terremoto di Casamicciola. Alla cerimonia funebre parteciperà il consigliere delegato dal sindaco Salvatore Pace e sarà presente il gonfalone della città metropolitana.